Spero bene. Chi mi segue su Instagram avrà visto che nella mia ultima storia annunciavo che oggi avrei fatto un video su una cosa che mi è successa oggi pomeriggio mentre che appunto ero al mare. Mi è arrivata una notifica dal canale. Aspettate, come si chiamava? Aggies Joyce si chiamava quando mi è arrivata la notifica però ora ha cambiato nome in Agnes Joy. Non lo so, forse sapeva che io avrei fatto questo video. Comunque, mettiamo non mi piace. Ora vi spiego anche i motivi. E vabbè, io mi sono stata lì ferma ad aspettare che cominciasse questa premiere perché magari era, non lo so, qualcosa. Magari dico, ah questo canale mi piace oppure vorrei fare una collaborazione con lei perché mi ha pure menzionata e ha scritto Esmeralda Oxa ha fatto e pubblicato questo video prima di me. E allora perché lo scrivi se sai che l'ho fatto prima io di te? Perché, in sintesi, questo canale ha rubato il mio video più famoso, Love in a World Gone Me. E naturalmente trovarsi davanti a questo non fa piacere perché è proprio come se questa persona mi avesse sputato in un occhio dopo che io mi sono sforzata. Ho lavorato duro per fare questo video come tutti gli altri perché io ci metto impegno, ci metto amore, ci metto passione. Vedere i miei video rubati da qualcun altro per essere ripubblicati senza alcuno sforzo, a me sinceramente, mi dà fastidio. E quindi, in sintesi, è successo questo, mi è stato rubato il video. Cioè, è proprio, è stato scaricato da internet e ripubblicato senza nessuna strategia. Che, tra l'altro, questa persona mi segue. È uno dei miei iscritti più recenti. Quindi, senti, togliti immediatamente dai miei iscritti. Comunque, chiudiamo l'argomento Agnes Joy e vi aggiorno su Snowball e musica. Ah, e poi, ultima cosa, lui ci ha messo, lui o lei, non so manco come, di che stesso sia, comunque, ha messo quel, questo, questo simbolo che io ho sempre usato come forma di decorazione nei miei video. Non ti rischiare, perché è una cosa mia, che ho metto io nei miei video e nessuno si deve permettere di farlo. Comunque, nel mio ultimo video, ovvero Money, Money, Money di Crudelio De Monno, mi è arrivato il commento di Snowball. Cioè, perché queste emoji, come te lo devo dire che ti devi togliere dai miei iscritti? Devi sparire. Ti è chiaro il concetto sì o no? La devi smettere di mandare queste emoji, perché se no Crudelio De Monno te la faccio vedere io fra due minuti, se non ce la stai smettendo. Capisci? E con questo credo che abbiamo chiuso l'argomento. Poi, vediamo che cos'altro mi è arrivato. Qua sono commenti positivi. Qui non mi è arrivato niente. Qua c'è stato un tedesco che ha scritto Che merda! E io gli ho risposto Mamma mia che paura, la gang del boschetto! Dopo che mi vieni a scrivere sotto al video Che merda! Cosa pensi che faccio? Piango! No! No! Non mi metto a piangere! Cioè, tu che pensi che faccio? Piango! No! Da un lato mi entra e dall'altro mi è già uscito Non me ne frega un cazzo È inutile che mandi questi Queste Diciamo questi Commenti stupidi Perché Non mi interessa Come te lo devo dire che non mi interessa? E sti cazzi se un video non piace Non è che qualcosa può piacere a tutti per forza Io lo so che se faccio qualcosa poi automaticamente c'è qualcuno che non gli piace Perché è normale È più normale questo che piacere a tutti 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 Oh, poi qua c'è La traduzione in italiano Grazie Io educatamente ho risposto Della canzone Ma La traduzione in italiano Grazie A chi? Scusa Magari potevi scrivere Per favore Mi potresti Insomma fare un video Dove fai la traduzione in italiano Della canzone No! La traduzione in italiano Grazie Ma a chi ti credi di essere? E non mi parlare così perché non sono tua sorella E ne è tantomeno una dei tuoi compagni di scuola Capito? Prossimo Vediamo chi è il prossimo da sentenziare Ora qui ci si diverte Qua ha scritto il suo commento Matteo Ciao Matteo ti saluto Mi piace molto parlare con lui E il signorino musica si è intromesso fra noi Non ti puoi intromettere in una discussione che coinvolge me E un mio amico nonché iscritto dagli albori di questo canale proprio dall'inizio Non è che uno può sbagliare ogni tanto Quindi non mi correggere Brrr Per me è scuola ragazza Fai la colletta per te La colletta io te la faccio a te E vabbè capita Io a scuola ci vado fra un mesetto a settembre Così non rompi più i coglioni E la colletta io la faccio a te Per i motivi che sai tu Se sei scrittrice come ti definisci non dovresti fare questi errori Sì io non mi definisco scrittrice Lo sono perché è così E comunque detto da te che non si scrive le carattere non me ne vuoi fregar di meno Ora ti giustifici dicendo che non ti definisci scrittrice Forse non hai capito un cazzo di quello che ho detto Io si che sono una scrittrice Te lo ribadisco lo vuoi scritto ancora più grande Io modifico quello che voglio perché ci tengo alla mia grammatica Io lo sono Quante cazzo di volte devo dirlo Io giustifico quello che voglio Non sei quello che credi o pensi di essere Invece sì che lo sono E ora stai zitto per favore Ma stai zitto prima che ti getto nel fango Modera i termini non parli con gli amici tuoi Meno male che ti definisci la signora E se così non fosse Non scrivi queste parole Allora io i termini non li modero Ok Io non ci parlo così con i miei amici Cioè più che altro se ho degli amici coglioni mettiamo caso Io glielo dico senza problemi che lo sono Ehi prima di tutto a me non me lo dici Io sono una signora come Crudelia Demon E poi E poi Meno male che ti definisci una signora Io sono una signora come Crudelia Demon Farebbe paura perfino a un leon E tu ti devi cagare addosso Crudelia Crudelia Demon E se così non fosse non scriveresti E se così fosse non scriveresti queste parole E invece si è quello che scriverebbe Crudelia Demon La mia idea di signora Stai zitto Sbagliare umano Perseverare è diabolico Ma andare a fanculo è terapeutico Ancora parolacce Che signora che sei Non mi richiamare Non sei mia madre E poi gli ho detto Devo finire Standalone Ciao ciao Con le mani e con i piedi Se hai sbagliato E' umano Ed è vero Non dovresti correggere E tu non dovresti rompere il cazzo E io gli ho risposto Ma io lo faccio lo stesso Ups I did it again Ups I did it again Na 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 Allora non dire che Sbagliare umano Se poi correggi Io posso E' lì che Ti attacchi al cazzo E poi gli ho corretto E con l'accento E verbo essere Dove ho sbagliato Rileggiti E gli ho risposto Io sono un personaggio pubblico E quindi lo posso fare E poi Dov'è che è scritto Che i personaggi pubblici ci Se lo possono permettere Decidi le regole a modo tuo Senza sapere che non sono vere Decido io cosa fare nel mio canale Ok E se non ti piace Te ne vai Te ne vai Lo capisci Gli ho detto zitto Ovviamente ora non sai che dire Devo stare zitto No io lo so che cosa devo dire Che ti prenda pesci in faccia Ecco che cosa ti dico Ovviamente tu non E poi gli ho risposto Che ovviamente tu non puoi Permetterti di ridermi in faccia Perché è una mancanza di rispetto Nei miei confronti E poi gli ho detto Ora basta Non intendo portare Non intendo più portare avanti Questa pagliacciata Perché non siamo all'asilo Cazzo Anche dirmi Stare zitto È una mancanza di rispetto È perché tu che cosa hai fatto A me Non puoi dire Che ti sto ridendo Nella faccia Nella faccia Soprattutto lui che Si crede un libro di grammatica Poi vedi come sono scritte a culo Le sue cose Non puoi dire Non puoi dire che ti sto ridendo Nella faccia In faccia tesoro Perché non ci vediamo fisicamente Tesoro Era una metafora Oddio Scusate Mi è uscita la voce Di crudalia dei mondo All'improvviso Se non volevi portare avanti Questa pagliacciata Come la chiami tu E in effetti è così È una pagliacciata Non dovevi pubblicare due video Ah no Infatti sto pubblicando pure il terzo Ma non avendo niente da fare Lo hai fatto Non mi comandi Io pubblico anche il terzo Hai capito Ma io posso Ovvio che sono una scrittrice Guarda che se non la smetti Ti faccio pure il terzo video Ed è quello che sta succedendo Quindi visto che sei una scrittrice Ti puoi permettere di sbagliare a scrivere Sì perché capita ogni tanto In realtà è il contrario Non dovresti sbagliare Se credi di essere una scrittrice Non lo credo Lo sono Cazzo Io posso perché sbaglio raramente Credo di non volerlo ripetere più Che sono una scrittrice a tutti gli effetti Oppure un podcast E sto cercando pure l'editore Pensa un po' Sapete il podcast su Esmeralda e Febo L'ho finito qualche giorno fa E dopo ve lo faccio vedere Ah e poi nella lingua italiana Si scrive due video Nei problemi di matematica Si scrive due video A nubelo Pensa un po' Una scrittrice Che tra l'altro Bisogna vedere Se piacerai Cerca una idea Quando vuoi sbagliare a scrivere E ti giustifichi Dicendo che accade raramente Ovvio che piacerò Perché le mie storie Sono interessanti Parlo di Argomenti molto importanti Non so se ti sei visto Ah vero Non può essere Perché è il profilo privato Però comunque Quando io pubblicherò L'approfondimento Sull'Ars e Crudelia Valla a vedere E ti renderei conto Della persona che sono Poi dopo Fammi sapere se ti piacerà L'approfondimento Sull'Ars e Crudelia È tutta invidia Tesoro L'editore Ovvio che mi apprezzerà Quando lo troverò Perché è ovvio Che lo troverò Ti giustifici Io sbaglio Io sbaglio raramente Ok ho sbagliato Ok ho sbagliato Lo ammetto Però mi sono corretta Cazzo Però almeno Una cosa utile L'hai fatta Ah e siccome sei un ritardato Anzi sei un'offesa dei ritardati L'unica cosa utile che hai fatta È stata questa E ricordarmi Di scrivere a Ver E non Ver Nel video di I Standalone E comunque Segui il discorso E capirai Che sei un imbecile Adesso vi mostrerò Il podcast su Esmeralda e Febo Che è finalmente finito Dopo un anno Questo è Anchor L'applicazione E questo qui È tutto il podcast Finito Ho anche fatto un trailer Qua ci sono tutte le analitiche Insomma c'è tutto quello Che riguarda il podcast Sono contenta Di essere arrivata A questo punto E non vedo l'ora Di iniziare il convento Il mio secondo podcast Intanto ascoltate questo Lo so Ci sono un po' di imperfezioni Però è il mio primo podcast Spero che Vi piaccia E Noi ci vediamo Nel prossimo video Che sarà su Anita Farskog Ciao E allacciandomi Al discorso iniziale Agnes Joy Parlo con te Sì sì E Lo sanno tutti Che è uscito Prima il mio video E quindi tu Non raggiungerai mai I miei livelli Perché Mi hai rubato il video Che avevo fatto Prima io È tutto questo Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti